. Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 20 agosto 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo acquario. Al centro della scena voi con la luna. Al centro della scena quest'oggi ci siete voi con la luna piena nel vostro segno, resa ancora più piccante dalla presenza di Plutone, ma ahimè non tranquilla come dovrebbe essere, contrariata non solo dal marito sole, all'opposizione, ma anche dal suo compagno di viaggio Mercurio, sempre ipercritico nei vostri confronti. In compenso potete contare sul dinamismo, l'allegria e il gusto del viaggio, messo in campo dai due giramondo Giove e Marte sospinti come aquiloni dall'aria dei gemelli, con i quali filate d'amore di d'accordo. Sulle relazioni infatti nulla da ridire. La vostra capacità di valutare tutti i punti di vista, anche quelli molti distanti tra loro e comprenderne le ragioni, è in evidenza e vi fornisce una grossa mano, specie se siete nati nella prima decade. In Oriente la luna d'agosto è festa grande, la leggenda racconta di una storia d'amore tra due costellazioni, il bovaro e la tessitrice, separati dal padre di lei perché presi dalla cotta incendiaria trascuravano il loro lavoro. Fu così che, nonostante non i due fossero nemmeno sposi, furono divisi dalla via Lattea, costretti a guardarsi a distanza. Solo una volta all'anno, appunto in questo giorno, hanno il potere di riabbracciarsi e fare l'amore, salvo poi salutarsi di nuovo per i prossimi 364 giorni. Potrebbe essere anche la vostra storia se, sobbillati dal magnetismo e dall'erotismo di Plutone, abbracciato alla bianca signora, vi siete presi una cotta colossale ma lui o lei, agliassi il sole all'opposizione in coppia con Mercurio, ha già qualcuno a casa che lo attende. Magari c'è addirittura una famiglia, un bel guaio dal quale vi toccherà ripigliarvi da soli. Contrarietà anche da Orano smanioso di libertà, ormai da anni in quadratura. Felice solo chi in coppia c'è già e ci sta bene, due piccioncini con pupi al seguito, tutti quanti giovani, disinvolti, vivacissimi, del genere che si incontra solo nei film, ma è nella vita vera. Se avete in progetto un pupo la sorpresa arriverà subito, facendovi strabuzzare gli occhi perché non sarà solo uno, ma due. Effetto della coppia Giove-Marte in gemelli divertente, impertinente, sempre pronta a fare scherzi, ma anche fomentatrice di amori e ispiratrice di grandi opere. E il bieco Saturno? C'è naturalmente, piazzato nella vostra seconda casa con aria da tragedie per quanto venere opposta allora sicuri sulla tenuta dal vostro gruzzoletto. Vi fa una filippica terrificante, cucendovi le tasche almeno per un po'. Amore ed Eros Estate periodo di cotte e stavolta, contrariamente al solito, siete voi quelli più scottati, presi non solo da un bel fisico e da una faccia interessante, ma anche da una mente lucida quanto la vostra. Se la coppia c'è già in vacanza col partner vi ritrovate d'accordo su tutto, un'intesa modello che non lascerebbe immaginare i vostri frequenti battibecchi cittadini. Sono soprattutto a proposito dei figli, scavezzacollo simpatici e intelligentissimi sì, ma quanto è difficile gestirli. Caso sempre in disordine, scombinata come voi, bersaglio delle critiche dei suoceri che fanno apposta a venirvi a trovare alle ore più impensate per cogliervi in flagrante, ovvero immersi nel caos. Forse non immaginano che è sempre così, tutti i giorni della settimana e a tutte le ore. Lavoro e denaro Pochi soldi da spendere, poca voglia di tornare al lavoro e alle solite noiose incombenze, in compenso tanta di evadere di nuovo o almeno consolarvi con lo sport e con gite frequenti, la prossima magari già sabato. Ancora cinque giorni perciò e si riparte. Intanto in azienda tornano le prime discussioni tra colleghi, con l'interlocutore in affari e con la clientela sempre pretenziosa, vi guarda dall'alto in basso come i reali fanno con gli straccioni. Ma che modi, non hanno ancora capito che negli ultimi secoli si sono consumate varie rivoluzioni. Se questa è democrazia. Benessere. Allo specchio vi vedete grassottelli e un po' sfatti, tutt'al contrario di quei top model che vi passano accanto per strada, abbronzati, truccati, ben vestiti. Invece di nervosirvi facendo paragoni e mangiucchiando per frustrazione andate a informarvi sui corsi in palestra, settembre non è lontano e nell'immaginario torna l'idea dei corsi e degli impegni culturali, come quando andavate a scuola. Dieta restrittiva per chi ha esagerato in ferie, ottimale ed è stagione quella dell'uva, in più vi regalerà una bella pelle. Per lei, speranza di vincita al gioco pari non solo a zero, perfino a un numero negativo, tanto vale stracciare la schedina e lasciare che la posta se la prendano tutta gli altri. Per lui, sportivissimi sempre, durante le vacanze, prima e dopo. Magari per vincere l'inerzia e appassionarvi a una disciplina ci avete messo del tempo, partite con sempre con la testa arrivando al fisico solo in seconda battuta, ma una volta approdati chi vi ferma più? Colore delle emozioni, bordeaux. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 6, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se lo trovi interessante e utile, non dimenticare di cliccare sul pulsante mi piace. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video.